Ciao, sono Francesca Aragno in Parisi del mondo 2015 e ti presento a te Murilo Kammer. Murilo, quali erano i migliori bambini del show? Beh, c'erano diversi spettaculare bambini del show. Credo che ogni campiontivo era contestato da alcuni bambini davvero incredibili. Mi piace alcuni dei mares, mi piace alcuni dei fili. Questo anno in particolare, credo che ho mai visto nella mia vita come giudice i bambini dei campiontri di bambini sono così difficilmente contestati. Quindi i bambini, i colti, i stagioni erano davvero incredibili. Sì, credo che la qualità è stata molto alta. E cosa pensi sui dei campionisti? Su loro lavoro? Ci hanno mostrato in una buona forma? Sì, i campionisti in Europa sono rapidamente approcciati gli americani. Pagionisti. Ci sono stati dei campionisti molto bene. Alcuni lavorano in una buona stessa. Mi è ottimo visto che c'era un poffitto di ingerza, in opinione. Ma ancora, questo è il migliorno show del mondo. Quindi ti piacciono? Molto. Siamo arrivati a te vediamo in Parisi. Inshallah.